Benvenuti, bentrovati, amici del web, amici dei social, amici delle televisioni, amici della radio. Siamo qui con questo nuovo format televisivo e digitale, politicamente indiscreto. Perché questo titolo e perché questo format? Intanto per dare del tu al nostro ospite, e io ne approfitto per salutare quest'oggi il sindaco di Rende, Marcello Manna, che è il nostro primo ospite, l'ospite che inaugura questa trasmissione, questo format, politicamente indiscreto perché parleremo di politica. Lo faremo in maniera abbastanza informale, lo faremo dando del tu appunto all'ospite, dando del tu in questo caso a Marcello Manna e facendoci raccontare da lui quelli che sono i risvolti della campagna elettorale e di quello che sarà prossimamente vicino al 26 maggio. Sindaco, ben arrivato, ben trovato in questi nostri studi. Ben trovato, ben trovato, grazie per l'invito. Mi sottopongo volendieri come cavia. Non sei una cavia perché devi sapere che abbiamo fatto delle puntate zero, hai avuto altre cavie. Bene, bene, bene. Allora, da dove partiamo? È partita questa campagna elettorale? Beh, la campagna elettorale sta partendo. Diciamo sta partendo perché c'era la relazione di fine mandato che ci ha occupato tutta la Giunta, ma anche la maggioranza, appunto per organizzarla e per comunicare ai cittadini di Rende quali sono non solo i risultati ottenuti, ma qual è il percorso amministrativo, le varie vicende sui vari temi che la città sta affrontando. Quindi è un primo dato. Nel frattempo, ovviamente, tra Laboratorio Civico e le altre organizzazioni che si stanno occupando delle liste, delle liste, della predisposizione dei programmi. Quante liste potrebbero essere al tuo fianco? Dicono sei, sette? Potrebbero essere questi, il numero potrebbe essere questo, non lo abbiamo ancora definito. Sinceramente non è una delle cose di cui mi sono occupato in questi giorni. So che c'è, ecco, grande fermento, grande organizzazione e soprattutto si sta lavorando sul programma che ovviamente fa seguito a quello che hai già ottenuto, a quello che hai avviato, al percorso che si sta facendo, un percorso amministrativo che devo dire in questi ultimi periodi sta dando grande, grande soddisfazione perché si aprono i cantieri, si realizzano opere importanti per la città e devo anche dire... Ma qualcuno potrebbe obiettare. Io leggevo un comunicato stampa che abbiamo avuto modo di pubblicare su Gazette del Sud che ringrazio qualche giorno fa, dove dicevi per me parte un secondo tempo della partita. Questo primo tempo abbiamo pensato di sistemare i bilanci, i conti pubblici, di vedere un po' la macchina amministrativa. Qualcuno potrebbe obiettare, ma perché queste opere non sono partite anche nel secondo anno, nel terzo anno, non a ridosso della campagna elettorale o addirittura successivamente? Ma semplicemente non è una scelta voluta. Sono stati presentati dei progetti, si è rimasti in attesa dei finanziamenti, i finanziamenti sono arrivati, poi devo dire se uno conosce la macchina amministrativa e burocratica si rende conto che poi i tempi, purtroppo, io devo dire purtroppo perché l'Italia, il nostro paese, deve mettere mano alla modifica di questi meccanismi. Questo io ne sono convinto. E ne sono convinto perché è vero e sottoscrivo questo dato. I progetti dovevano essere realizzati prima. Questi tempi così dilatati, i ricorsi, TAR, Consiglio di Stato, ci sono situazioni nelle quali davvero il tempo si dilata. E però le esigenze sono concrete, sono reali, le devi in qualche modo... I cittadini non vogliono aspettare. Ma non solo i cittadini, ma il cittadino da questo punto di vista è lontano dalla macchina amministrativa, non conosce, non può conoscere. Il cittadino vorrebbe avere subito la risposta, ma mi pare anche che questo corrisponda un po' a quello che deve essere una società che si sa muovere in modo diverso. Invece così purtroppo non è. E stanno arrivando tutta una serie di iniziative e di percorsi. Ma qual è la soddisfazione? Quella di avere però disegnato un percorso amministrativo che porta a dei risultati sull'agenda urbana. Noi abbiamo lavorato tantissimo, però stiamo per firmarla adesso, la stiamo firmando adesso insieme con la Regione Calabria. 14 milioni di euro, mi pare. 14 milioni di euro. 14 milioni di euro sulla città di Rende sono inutanti. Lo vogliamo tradurre però, che cosa significa 14 milioni di euro? Sennò uno sballotta un po' con quelle milioni. No, no, significa interventi anche… Ma quando? 14 milioni firmiamo adesso. Bene, da quando partono la possibilità di utilizzare questi 14 milioni? Da quando possiamo partire? Per far capire al cittadino i tempi. Qui devo dire che contrariamente a quello che accade, vale a dire una volta che è stato approvato poi devi vedere quando è che le somme vengono stanziate, quando realmente le hai materialmente. A disposizione. Qui devo dire che le notizie che ho è che invece questo finanziamento è pronta consegna. Tanto è pronta consegna che la città di Catanzaro li ha già ricevuti. Allora, se è pronta consegna, io posso dire che se prossima settimana noi firmiamo, da qui a 20 giorni, da qui a un mese, puoi cominciare ad avviare tutto il percorso per affidare i lavori, per intervenire… Cosa si è pensato di fare con questi 14 milioni? Ci sono vincolati un po' a quelle che erano le linee della Regione Calabria. Però l'intervento sulle strutture che vanno riqualificate, l'intervento come centri di aggregazione sul sociale, sul sociale si è fatto molto, sull'aggregazione si è fatto molto, sulle periferie si è pensato molto e devo dire che per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la città di Rende, queste finalità corrispondono un po' anche alle esigenze che abbiamo come città di Rende. Questo per noi è molto importante. Quando si è pensato alle periferie, all'intervento sulle periferie, quando per esempio si è pensato di intervenire su una scuola abbandonata di Santo Stefano, che diventerà invece un polo riqualificato e che abbiamo destinato alla casa delle associazioni e quindi all'aggregazione sociale. Quindi diventa un fatto fondamentale. Tieni presente, abbiamo detto che ci siamo del Tu, tieni presente che sulla comune di Rende insistono tantissime associazioni. Ma io devo anche dire che tutta l'area urbana, che è contaminata di associazioni di varia natura... E sono venuti in questi anni a bussare alla porza del sindaco? No. Sì. Una richiesta impressionante. Ma per avere una sede, un supporto, un patrocino... Per avere sedi, per avere patrocini, per avere piccoli finanziamenti e soprattutto, ed è la cosa che più mi interessa ed è un aspetto che voglio sottolineare perché nel nostro territorio questo rappresenta una vera e propria ricchezza, e soprattutto per proporre iniziative culturali, ovvero sociali, ovvero di aggregazione. Tanto è vero che noi abbiamo, solo con la disponibilità che abbiamo dato alle associazioni, il museo del presente... Sempre aperto. Non solo sempre aperto, ma è sempre occupato con iniziative nuove e alcune sono proprie nostre, dell'amministrazione, ma tantissime, la maggior parte, provengono da associazioni le più disparate. Ma quando dico le più disparate, non solo voglio dire il tema dell'arte, della pittura, della poesia, dei teatri e delle manifestazioni teatrali... Cioè mi pare discorso che ci sia vitalità in città. È una sola sensazione. Enorme, enorme vitalità, enorme vitalità nella nostra città, enorme vitalità in tutta l'area urbana. Ci sono associazioni che si muovono nelle nostre città e che presentano più progetti. Candiderei qualcuno di queste associazioni analisti, proprio per essere indiscreto. Ci sono alcuni che hanno inteso manifestare la propria disponibilità a candidarsi perché è piaciuta molto anche questa idea di lasciare spazio alle associazioni, di... i talenti che abbiamo nel nostro territorio, nelle varie materie, sono davvero tanti, che meriterebbero una maggiore attenzione. Mi viene in mente, potrebbe essere su questo filone, i beni comuni, ma anche in questa sorta di affidamento della gestione ai cittadini o alle associazioni. Il progetto dei beni comuni, devo dire, è un risultato di grande rilievo che devo anche con estrema franchezza dire era qualcosa che volevamo noi, ma ce lo hanno sollecitato le associazioni che hanno avuto grande spazio anche nel disegnare il progetto dei beni comuni. Cioè quando tu non puoi pensare ai beni comuni, mandi questa idea e poi la costruisci tu e la consegni agli altri come qualcosa che viene dall'alto. No, io penso di poter dire che per esempio sul progetto beni comuni abbiamo lavorato insieme con diverse associazioni che poi facevano capo anche al raggruppamento per esempio di Decidiamo Noi, della stessa Hauser e quant'altro. Di Villaggio Europa. E devo dire che è stato un percorso, penso di poterlo dire, assolutamente condiviso dove ci siamo confrontati e abbiamo credo trovato un punto d'incontro su un tema così delicato. A quel punto il bene comune, il percorso deve continuare, devono essere individuati quali sono i beni, quali sono le cose, però pensare di avere uno spazio oggi anche normativo dove poter pensare a contrade, noi l'avevamo già fatta questa cosa per esempio a contrada d'attoli, noi avevamo già assegnato sia pure in via temporanea, provvisoria uno spazio che è il centro sociale che c'era lì, mai aperto, lo abbiamo consegnato a un'associazione, per meglio dire, a un'aggregazione del territorio spontanea che gestiscono ed è un luogo dove si incontrano, dove si sta assieme, dove ci si confronta dove si progetta, dove si fanno tante cose. Per capire, per andare dritto alla meta, il sociale quindi è l'ambito in cui più hai lavorato o ti puoi ritenere soddisfatto su qualche altro settore della vita amministrativa? Poi voglio sapere ovviamente quello in cui ti ritrovi di meno. Devo dire, ho lavorato molto sul sociale, ma ho lavorato molto sui lavori pubblici che stanno partendo. Ho lavorato molto, ma sono stato rallentato enormemente, l'ho detto anche nella relazione di fine mandato, nell'urbanistica, ma adesso andremo avanti molto velocemente. In giunta approveremo il PSC e lo porteremo... Si porta in Consiglio Comunale? Prima in giunta, lo approviamo in giunta, poi facciamo tutto l'iter che viene fatto attraverso le osservazioni che devono fare i cittadini. Ma non ci sono i tempi? Ma non voglio io, in questo momento non voglio... Almeno fino a fine consigliatura non ci sono i tempi? No, ma non voglio, non sto pensando di concluderlo, non esiste. Voglio però pensare che un progetto sul quale abbiamo mostrato, dove una commissione, l'ho detto e l'ho detto anche questo pubblicamente, ha lavorato di grandi professionisti, ha lavorato... C'è l'architetto Frangini che è molto brava, che conosciamo da tempo. È evidente che dopo tantissimi anni, penso che sono 9 anni, 10 anni, qualcosa del genere, oggi dobbiamo comunque avviarlo il percorso e questa amministrazione avvierà il percorso del PSC, dei PAU... Fin quando rimane in carica l'aggiunta? Io ritengo fino all'esplettamento delle... Quindi stai continuando a svolgere i giunti? Io sto venendo da una giunta, dove abbiamo approvato almeno 10 provvedimenti, sono stati discussi... Giunte da campagna elettorale o giunte per la città? No, giunte solo per la città. Noi dobbiamo assolutamente distinguerci, non facciamo giunte da campagna elettorale, ma giunte, per esempio, si è pensato al comitato degli esperti per il polo museale, con nomi importantissimi, nazionali, che hanno aderito a questo progetto e devo ringraziare l'assessore Marta Petrosevici per avere... Oggi ti rende, si è mossa molto bene. Lei ha pensato a questa iniziativa e l'abbiamo realizzata oggi con un'aggiunta, anzi domani ti mando questa delibera perché è importante, ci sono nomi di rilievo nazionale che si occupano di Rende e del polo museale di Rende, non è cosa di poco conto, penso, e quindi devo dire... Questo può riallacciarsi anche ad un rilangio, scusami il gioco di parole, con il centro storico, perché il polo museale è legato anche al polo antico, no? E' evidente che lì, così come le residenze per gli scrittori che verranno e saranno i nostri ospiti nel centro storico per scrivere e parlare di Rende, e non solo di Rende, io direi della nostra terra, io poi ho l'ambizione di non circoscrivere, di non alzare muri, Rende e poi... Sei il sindaco di Rende, gioco forza. Rende, ma Rende, quando parli di Rende parli di un territorio... Stai pensando a candidarci alle regionali? No, 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 assolutamente. Alla città unica, la lanciamo già da adesso o mi fai fare uno scoppio in antebri? Dimenticavo che la trasmissione si chiama politicamente, quindi tu subito vai là. No, 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 io sono persuaso di questa cosa, che il nostro territorio intanto diventa attrattivo, intanto diventa appetibile, intanto puoi parlare di turismo, di imprese, di tutto, in quanto lo presenti complessivamente, nella sua bellezza di attrattive che riguardano Rende, la città capoluogo, Cosenza, la Sila, tutto intorno quello che c'è, è unico questo territorio. Se ragioni così diventa attrattivo, se rimani come singola città, io temo che non abbiamo una visione esatta della nostra realtà e su questo io ci vorrei molto lavorare. Non è una risposta a chi invece politicamente dice che Rende è arretrata rispetto a Cosenza in questo gioco delle parti? Non è una risposta a quella, è invece proprio una visione di allargamento di orizzonti? È una visione di questa cosa, dopodiché devo anche dirti, perché i dati adesso li pubblichiamo tutti, 1.000 cittadini, 1.000 residenti, 1.400, 1.400, ma non è questo, ed è dato il contro tendenza, ma non è questo. Rende, credo, solo anche con Rossano Corigliano, con Corigliano, è la città della Calabria che ha tutti i segni più in tutti gli argomenti e tutte le materie. Sono dati che mi provengono dalla Camera di Commercio, sono dati che… L'attività, il numero di addetti impiegati… Tutto, impiegati, 3.000 e più posti di lavoro in più, 608 imprese e ditte che hanno aperto in più, tra chiusure e aperture c'è un più 608. C'è una tendenza a crescere dal 2014 ad oggi su tutti i temi. Questi adesso li pubblicheremo, li diremo perché siamo stati in silenzio quando si diceva regredisci in modo strumentale e in modo veramente poco attento anche alla città, perché quando dici che una città regredisce stai offendendo anche la città, stai mancando di rispetto anche verso la città, soprattutto quando questo dato non è vero. Soprattutto quando… Qualcosa che non è andata per il verso giusto, verso più, più, più ci sarà anche stato, no? Non penso che sia soltanto una parte mediatica che insomma ha una ribalta negativa, no? No, no, no. Qualcosa che non è andata per il bilancio, se vogliamo dire, i conti pubblici sono messi bene. Non voglio tornare all'argomento della campagna elettorale di 50 anni fa, però… è giusta questa cosa, contavamo di uscire molto prima dal predisesto, non ci siamo riusciti e non ci siamo riusciti perché i debiti che noi pensavamo di avere sono aumentati e sono aumentati perché sono arrivate sentenze di condanna, sono arrivate altre cose, quindi qui io registro una mia, come dire, se vuoi anche sconfitta, nel senso io pensavo di poter riuscire, ce l'abbiamo messa tutta per provare a uscire dal predisesto. Sono di viaggi a Roma al Ministero… Ce l'abbiamo messa tutta. La legnochimica potrebbe essere forse… Lì il percorso si è avviato, ma il percorso purtroppo prevede, siccome c'è la presenza del privato e c'è un vulnus nella norma, nelle norme, perché se il privato poi è fallito, c'è una procedura fallimentare, quant'altro non può intervenire nessuno, tranne per situazioni di emergenza, ma l'emergenza non c'era e quindi hai dovuto lasciare le cose un po' così, tranne per questi aspetti. Però il percorso si è avviato e noi usciremo fuori dal discorso della legnochimica, così come stiamo provando ad intervenire in una cosa difficilissima, che è quella pure degli odori che sui quali bisogna intervenire e stiamo avviando anche un progetto in questo senso. Ecco, lì ci sono stati ritardi, pensavo di riuscire prima, pensavo di farla prima, c'è il mio meno e nel tempo che ho impiegato per avviare il percorso, lì io vedo che ci sono stati… Il bando del parco acquatico, pensi di aver sbagliato qualcosina? No, no, non ho sbagliato. Visto che è andato più volte deserta la gara, insomma è stato… il primo maggio dovrebbe forse inaugurare… Posso dire, voglio dire che se la metropolitana è partita, è stata giudicata dopo tre gare e nessuno ha detto niente, quando si parla del parco acquatico invece come mai è andato deserto e perché? Perché forse bisognava prevedere una durata più lunga, l'abbiamo fatto, 18 anni, ci sono degli imprenditori oggi che si sono messi in gioco, stanno lavorando ogni giorno, io ieri sono stato a visitare il parco acquatico, sono andato a vedere come vanno i lavori, c'è la pulitura dei giardini, si sta intervenendo perché ci sono piccole infiltrazioni e quindi si sta intervenendo per questa cosa, nei primi giorni di maggio verrà inaugurata, dobbiamo pensare a una grande festa e la festa dell'area urbana perché questo è comunque un'opera che riguarda l'area urbana e devo dire, io ho provato a dare anche qualche consiglio, facciamoli gli eventi belli per la nostra città perché l'evento che c'è stato più importante che ha riguardato il cosiddetto Oktoberfest ha portato numeri e presenze incredibili, allora qui funziona, ma c'era il patrocinio, ma anche se organizziamo qualcosa adesso nel parco acquatico è la stessa cosa, la gestione è sempre del privato, c'è il comune che comunque sta a fianco al privato, noi abbiamo provato a fare questa, questa è un'altra operazione sulla quale io ti chiedo un attimo una riflessione, abbiamo avviato Casa Rende con Rende Calcio, la scuola anche di calcio, la scuola aperta anche ai bambini con famiglie disagiate e quant'altro, sta funzionando e sta funzionando bene, sta funzionando bene anche questo percorso del calcio di Rende, è stato bene perché quando ti metti insieme col privato, il pubblico e il privato possono arrivare dove il pubblico da solo non arriva e difficilmente che riesci ad arrivare. Abbiamo pochi secondi, avremmo potuto parlare della scuola, ma ne parleremo perché la campagna dell'attore è lunga e speriamo di averti ospite in un'altra occasione, le scuole, avremmo potuto parlare anche della viabilità, avremmo potuto parlare e voluto parlare della zona industriale, ne riparleremo, un flash, perché io dovrei votare Marcello Manna? Perché Marcello Manna ritiene tra le tante cose, tra i tanti progetti che ci sono, che la nostra terra, la città di Rende, partendo dalla città di Rende, partendo anche un po' dalla nostra terra, meriti anche una nuova classe dirigente. Io su questo dato mi voglio confrontare. In attenzione alle liste allora, a come si compongono le liste. Con la città. Ma sai, le liste poi sono anche fatte da chi si mette a disposizione di un progetto e di qualcosa e in percentuale ci può essere anche quel 5-10% che viene dal passato. Io quando dico nuova classe dirigente dico persone, non solo persone giovani, ma anche persone che provengono dalla società civile che magari non hanno mai avuto tessere di partito o altro e che intendono mettersi in gioco e solo nell'interesse della città. E in questo io dico che mi distingo un po' da tutti gli altri. Questo è un dato che oltre ai progetti che abbiamo, oltre a tutto quello che vogliamo fare per la città, però secondo me diventa fondamentale una riflessione, provare a riuscire a intervenire sul momento politico di una nuova classe dirigente che dia una spinta in più per la nostra terra, per le nostre città, per le nostre aree urbane, per la nostra regione. E c'è necessità di questo, perché le opportunità per realizzare in parte l'Europa te le dà, in parte le risorse regionali ci sono. Allora bisogna realizzarle queste cose. In più rispetto a 5 anni fa? O in ugual modo? No, no. Se uno potrebbe dire hai avuto 5 anni? No, no, ci sono, ci sono. Ci sono. Ci sono. Ci sono. Si sono realizzati dei progetti, si è aperta la possibilità di presentare dei progetti. Quando Rende ha aderito al Galsila, non l'aveva mai fatto, ci sono 105 ditte in agricoltura che sono nate nel nostro territorio e quindi opportunità di lavoro. Allora è lì che bisogna inserire. Noi abbiamo grandi capacità, siamo una delle prime città della Calabria, ma oggi questo dato lo abbiamo riaffermato con più forza perché i dati ci dicono che siamo i primi. Certo, come reggito pro capite, come sviluppo del territorio. Come sviluppo del territorio. Le potenzialità le abbiamo perché c'è un'università che finalmente non ha gli steccati, ma li stiamo man mano... C'è una zona industriale che deve ripartire con grande forza, sulla quale bisogna mettere ancora molto più energie di quelle che sono state messe. Però ecco, queste potenzialità ha bisogno di una classe dirigente che guidi questo percorso e quindi da questo punto di vista penso che dire proviamo a formare la nuova classe dirigente con Marcello Manna credo che non sia un dato sbagliato. Bene, abbiamo terminato, i minuti siamo andati forse un po' oltre, ma ci stava come primo ospite assolutamente doveroso e ringrazio per questo il sindaco Marcello Manna, grazie a tutti voi, grazie a Cosenza Post che ci ha dato l'opportunità e ci darà l'opportunità di finire su tutti i canali web e digitali, grazie a Calabria Diretta News e arrivederci alla prossima. Ciao a tutti. Grazie, buonasera. Grazie a tutti.